Tanti sorrisi e la voglia di conoscersi e di condividere momenti sportivi. L'Open Day della società Alessandria Volley, il sodalizio nato a settembre 2016 dalla fusione di tre storiche realtà, AVBC, PGS Vela e GS Quattro Valli, è stato un successo. Svoltosi al Cento Grigio, l'appuntamento, secondo la tipica natura degli Open Day, è stata l'occasione per presentare ai giovani e alle loro famiglie questa importante realtà della pallavolo cittadina. L'Alessandria Volley ad oggi conta oltre 300 atleti e atleti, con 14 squadre che militano dalla Serie D fino al mini-volley e uno staff tecnico di 16 allenatori con il proprio settore maschile, che è stato attivato da alcuni mesi. All'evento ha partecipato anche il sindaco di Alessandria, Rita Rossa, che ha portato il saluto della città e espresso il riconoscimento della comunità locale per l'importante ruolo svolto da Alessandria Volley nella valorizzazione dello sport nel territorio alessandrino. Al primo cittadino il presidente, Mauro Bernagozzi, ha consegnato una maglietta ufficiale della società e insieme a tutto lo staff, ai tecnici, alle atlete e alle loro famiglie, ha attivato un punto informativo allestito per l'occasione presso il Cento Grigio. I giovani interessati potranno iscriversi qui ed entreranno a far parte dell'affascinante realtà del Volley Alessandrino. Grazie.